Come le aziende devono gestire questa nuova tecnologia? Stiamo parlando di software o stiamo parlando di un nuovo compagno di lavoro all'interno di un team? La Summer School in Intelligenza Artificiale per Healthcare and Life Science è un'opportunità per studenti, ricercatori, professionisti che lavorano nel mondo dell'intelligenza artificiale applicata nelle applicazioni biomedicali per poter essere aggiornati sui nuovi trend che rivoluzionano il sistema sanitario odierno speaker di fama internazionale, professori, professionisti aziendali, temi teorici o pratici ma anche più intellettuali come l'etica, le considerazioni di privacy che l'intelligenza artificiale oggi deve considerare L'impatto di questa tecnologia è un impatto dirompente anche perché dovuto alla capacità di diffusione di una tecnologia del genere che oggi è in mano a 800 milioni di persone con uno strumento del genere le persone possono imparare più velocemente possono diventare più efficienti le aziende possono riuscire a trovare nuovi modelli di business allora il mondo potrebbe cambiare velocemente io ho deciso di attendere la scuola summer perché ho proprio iniziato a lavorare con la data sanitaria due mesi fa quindi questo è per me per ottenere la scuola di AI in la sanitaria io ho deciso di venire a Campus Biomedico perché ho amato innovazione e ho solo chiesto di trovare più sui AI in la sanitaria e il suo impatto in il sistema di healthcare